Mi sento dire, è successo che il pronto soccorso di un ospedale hanno scambiato le barelle, hanno mandato i malati in due reparti sbagliati e questi sono morti. Tragico errore, insomma, no? Ma com'è possibile? Uno si dice, no? Ma in che mondo viviamo? Cosa ne è della nostra... La prima cosa che mi viene di dubitare un pochino, no? Allora vado a vedere e in realtà, insomma, no? I giornali portano questa notizia. Tivoli, scambio di barelle al pronto soccorso. Morti due anziani pazienti trasferiti per errore nei reparti sbagliati. Morti due anziani, scambi di barelle. Tragico errore, una fatalità. Incorsì al pronto soccorso e costata la vita a due anziani pazienti. Qui il nesso di causa ed effetto è chiaro, insomma, no? Ti viene dato senza dubbio. I malati ricoverati in gravi condizioni sono stati scambiati e trasferiti nelle reparti sbagliati. Quello che doveva finire in rianimazione è stato portato in chirurgia e viceversa. Tragico l'epilogo. Sono morti entrambi e ora l'autorità giudiziaria ha disposto le autopsie sui corpi per far luce sull'esatta causa dei decessi. Allora, l'informazione, se l'informazione non ti lascia dubbi, no? Le conseguenze sono che quando tu vai a vedere questa notizia si apre un banner pubblicitario nel monitor, in alto, e ti dice sostanzialmente, insomma, no? Fai causa contro l'ospedale, ti assistiamo gratuitamente se vuoi far causa per motivi di malassanità all'ospedale. Cerchiamo di tirar fuori denaro dagli errori della sanità. Questa cosa poi si riassume in una parola, medicina di difesa, ma andando sullo specifico della notizia viene a chiedersi, e beh, e se anche sono state scambiate le barelle? Alla fine, chirurgia e rianimazione non sono delle parti così lontani, neanche fisicamente nell'ospedale, perché spesso poi la chirurgia ha anche dei posti letto in rianimazione, nel senso che molti malati chirurgici che hanno subito un intervento grave poi finiscono in rianimazione nell'immediato postoperatorio. E poi c'è sempre un rianimatore reperibile, per cui se io chirurgo ricevo un malato che ha bisogno di essere rianimato, chiamo il rianimatore e magari prima ancora di ricoverarmelo nel mio reparto, anche se vi è stato diretto dal pronto soccorso, chiedo al rianimatore se me lo accoglie lui. Quindi se poi telefono dal pronto soccorso gli dico guarda, manda questo malato in rianimazione perché ha bisogno di essere rianimato, non di chirurgia. Rimediare a questo scambio non è così difficile. Presuppone che il malato sia visto, ma questo è il compito di chi riceve il malato. Il medico che riceve il malato del pronto soccorso nel momento in cui se lo ricovera diventa lui il responsabile. Quindi in genere deve essere attento quando accetta un malato, deve accorgersi delle cose. In teoria lo deve visitare completamente quando lo riceve. Al lato? Perché il pronto soccorso smista, insomma, di solito. Quindi non è detto che ci si debba fidare del pronto soccorso. Nel momento in cui tu accogli un malato in reparto sei tu il responsabile di quel malato, non più il pronto soccorso, allora nel momento in cui si accende la responsabilità tu ti devi premunire, avere gli strumenti per rispondere, no? Per essere responsabile. Se il malato è vigile, se il malato gli chiedi come ti chiami, fa parte dell'esame che tu fai a un malato quando entra a verificare lo stato di coscienza, quindi se è confuso, se è orientato, insomma se è in coma, e quindi a quel punto gli fai una serie di domande. L'identità la verifichi già in quel momento. Come spesso quando il malato ti entra dal pronto soccorso, ti entra anche con dei documenti, dai quali probabilmente il pronto soccorso poi ha preso, ha ricavato quei dati che mette nel foglio di invio. Ma c'è anche di più. Di solito quando un malato arriva ed è anziano, e poi non è cosciente, dovrebbe venire accompagnato da qualcuno, da un parente, se ha una situazione familiare un minimo decente, oppure se è istituzionalizzato da un infermiere, da qualcuno del luogo dove è ricoverato, dove si trova, da un vicino di casa, se è a casa e se è stato male a casa, insomma una persona che lo conosca e che quindi nel momento in cui stia con lui, soprattutto se non è cosciente, finché è lì, in pronto soccorso, in attesa di essere ricoverato, e che poi lo accompagni in reparto, finché poi il reparto non si prende cura di lui. Allora in questo caso non è possibile sbagliare l'identità. No, c'è qualcuno a fianco che ti dice, no, guarda che questo qua è il pinco, e poi si chiama tale, magari come si chiama, e l'altro ti dice, Giovanni, e tu guardi sulle carte, vedi che c'è scritto Andrea, e allora magari telefono in pronto soccorso, insomma, problema di comunicazione. Ma evidentemente neanche questo è successo, insomma. Quindi un'altra cosa che si può inferire è che questi malati smistati dal pronto soccorso in due reparti, diciamo, tra virgolette, sbagliati, insomma, che non erano quelli che aveva individuato il pronto soccorso, fossero arrivati da soli, senza nessuno che li accompagnava, in condizioni molto gravi, probabilmente di coma, incapaci di, quindi, di dire chi erano, e poi smistati da soli, un po' come pacchi, insomma, no? E voi sapete che anche in aeroporto a volte i pacchi non finiscono sempre nel posto giusto, dove scende il passe zero. A me è capitato, per esempio. Quindi altra cosa che si può inferire da questa notizia è la solitudine, no? Con cui si arriva in ospedale in condizioni gravi. Solitudine, abbandono. Erano anziani queste due persone, insomma, no? Anche in condizioni di coma, da quanto si può sempre inferire, così, con tutti i limiti da questa notizia. Solitudine. Dopodiché, se uno muore poco dopo, o un giorno dopo, non si capisce, non è specificato qual, e muore comunque in rianimazione, o muore in chirurgia, è probabile che ci fossero già le premesse perché questa persona morisse, fosse stata ricoverata in maniera urgente, ci fosse poco da fare. Perché viene da pensare che comunque, insomma, nel momento in cui il chirurgo riceve un malato gravissimo che ha bisogno di rianimazione, beh, chiami immediatamente il rianimatore e gli dica, guarda, questo qui sta molto male, trasferiscitelo perché ha bisogno di essere rianimato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non respira da solo, vuol dire che ha dei problemi per cui ha bisogno di essere rianimato. E viceversa, il rianimatore che riceve un malato chirurgico, è difficile che, insomma, un malato chirurgico muoia in rianimazione perché se il rianimatore si accorge, lo visita e lo visita per forza e vede che, insomma, i parametri vitali sono compromessi e a comprometterli ci può essere qualcosa di chirurgico, ha immediatamente il consulente chirurgo al quale far riferimento, insomma. No, si trova, chissò io, un sanguinamento gravissimo e si accorge, insomma, dagli esami che fa, che c'è un sanguinamento, che c'è un'anemia grave, eccetera, eccetera, pensa che ci sia, non so, un ulcera sanguinante, qualcosa del genere, è chiaro che chiama il chirurgo, insomma, o chi di dovere. Quello che viene difficile da pensare è che la morte di questi malati sia attribuibile a uno scambio di barelle. Quello che invece risulta chiaro è la solitudine e l'isolamento del vecchio che arriva buttato in pronto soccorso e dal pronto soccorso viene smistato perché poi è un peso, insomma, no, perché dove c'è posto a volte, perché poi non sempre c'è posto nel reparto adatto. A volte il pronto soccorso manda anche in un altro reparto semplicemente perché in chirurgia non può mandarlo, lo manda, che so io, neanche in rianimazione, di genere c'è mai posto, lo manda in un reparto ancora meno adatto. Non è che perché ricoveri un malato in medicina perché temporaneamente non c'è posto in chirurgia, questo muoio il giorno dopo, insomma. Il medico chiamerà il chirurgo e si metteranno d'accordo su come assistere quel malato finché non ci sarà posto in chirurgia. Di solito, insomma, ai miei tempi si faceva così. Quindi non è questo causa di morte, ma è conseguenza di cattiva organizzazione, spesso, della struttura in genere. Cattiva organizzazione. E quando si cerca un responsabile della cattiva organizzazione non lo si trova mai. E poi della solitudine, dell'abbandono in cui vengono lasciati spesso i vecchi, dove c'è da immaginare che questi vecchi siano arrivati da soli per i motivi che dicevo prima. Su questo si impianta però lo scandalismo. Quindi, come dire, il trovare un colpevole è molto facile, no? È la cosa che più colpisce scambio di barelle. Morti perché in ospedale, quindi insomma, mala sanità. Guardate com'è ridotto, come siamo ridotti, cosa può succedere. Sbagliano anche le barelle. Questo fa notizia, no? E tutti quanti riportano la stessa notizia a tutti i giornali nello stesso modo, quindi non si preoccupano neanche di indagare. Insomma, nel momento in cui questo fatto viene, il fatto è talmente ghiotto che viene ripreso come tale e riportato nei vari giornali senza riflettere poi. Ma la conseguenza di questo cos'è? Che sempre di più chi raccoglie la notizia dice no, ma guarda come siamo messi in Italia, insomma, no? Come, cosa succede? E allora se succede questo bisogna denunciare, insomma, no? Bisogna denunciare. Infatti il parente evidentemente non ha accompagnato il malato quando c'era bisogno, quando è stato male, quando è stato portato in pronto soccorso, però quando arriverà il giorno dopo magari a trovarlo è stato avvisato, cioè si accorge che il malato non era lì oppure gli dicono che è già morto a quel punto lì il parente allora si incavola, no? E dice vediamo quanto possiamo ricavare da questa cosa, no? Facciamo denuncia, tanto insomma c'è questa questa tendenza, no? Anche degli avvocati a dire oppure certe strutture che sono che hanno trovato il business in questa cosa, no? Denunciamo comunque l'ULS e a questo punto vediamo cosa si può ricavare di risarcimento e qui si innesca poi tutto un meccanismo che è quello della medicina di difesa. Due entità che dovrebbero essere alleate, no? Medico e paziente, insomma, dovrebbero cercare di avere il massimo di fiducia l'uno rispetto all'altro all'interno di questo meccanismo cioè della medicina di difesa diventano nemici vedono nell'altro un potenziale pericolo uno non si fida dell'altro perché il medico ha paura di essere denunciato e allora il suo obiettivo non è più il bene del malato ma diventa il pararsi le spalle il fare di tutto per coprirsi da potenziali rischi applicare le cose i protocolli così come sono indipendentemente dall'adattare al singolo dal fare uso della propria esperienza della propria intuizione no applico il protocollo tanto così sto tranquillo e il malato è di guardare con sospetto sempre il medico vedendolo sempre come qualcuno che è interessato ad arricchirsi alle sue spalle o a fare le cose male a essere disinteressato insomma è sempre come con occhio ostile insomma e questa è la cosa peggiore che può succedere perché non ha sbocco perché si innesca un circolo vizioso in questo caso che porta a un deterioramento sempre maggiore a cui poi si fa si cerca di dare rimedio con la tecnica no facendo sempre più esami e quindi aumentando i costi e così via insomma e quindi poi aumentano i costi aumentano le richieste di esami e questi esami sono sempre più inaccessibili al pubblico per cui diventano come dire diventano ghiotti dal punto di vista privato i pazienti che non possono avere quell'esame dal pubblico si rivolgono al privato e lo pagano e nel momento in cui lo pagano lo pagano molto se la prendono ancora di più con questi medici che diventano ladri insomma questo poi è il meccanismo che scatta però quando sentiamo una notizia come questa che ho sentito io ecco pensiamo a quello che può esserci dietro e all'uso che ne fanno i giornali di questa di questa notizia e se quest'uso che ne fanno i giornali poi non può essere strumentale per qualcos'altro allora l'invito è quando si sentono notizie di questo tipo di pensare sempre a quello che può esserci dietro e quindi di di riflettere con con la nostra testa poi ognuno trae le conclusioni che vuole secondo quelle che sono le sue convinzioni ma di non prenderle mai come ma di non prenderle mai come oro colato come qualcosa di oggettivo